e vorrei che lo potessimo accogliere con un applauso bentornati grazie diceva il pastore Daniele che gli attacchi ci sono stati perché improvvisamente mercoledì ho avuto un attacco influenzale con 38 di febbre infatti ancora sono un poco stonato ieri è stato il primo giorno che ero senza febbre ho detto vabbè parto infatti ho detto al pastore non ti preoccupare ci sarò dovrei avere soltanto 40 di febbre per non esserci ma anche con 38 vengo a predicare no vabbè sono fatto così infatti l'unica volta che in chiesa dopo 8 anni non mi hanno visto in una riunione si sono preoccupati e che hanno detto allora sta male veramente e niente prima volevo visto che Daniele diceva di parlare della facoltà beh credo che sia un percorso molto importante vorrei incoraggiare soprattutto se mi è permesso i giovani a poterlo fare specialmente la fascia dei giovani che già sta frequentando il liceo sarebbe molto bello per loro poter già incominciare a svolgere questa attività lo sapete perché intanto è aperta a tutti e soprattutto coloro che nella chiesa hanno dei compiti come diaconi anziani sarebbe importantissimo che facessero questo percorso per un motivo intanto perché lo studio della teologia è qualcosa di molto importante nel rame evangelico purtroppo discutivamo ieri con Daniele ci sono anche pastori che sono ignoranti sul campo teologico e che molte volte poi si fanno si fa un danno enorme perché non conoscendo la dottrina a fondo si costruiscono anche nella chiesa evangelica delle tradizioni umane ossia si prendono fattori culturali e si fanno diventare dottrine cioè questa è una cosa molto molto pericolosa credo che oggi c'è bisogno visto che la società di oggi è molto non credente cioè tende all'ateismo di persone valide e preparate nel campo della parola di Dio che sappiano anche confrontarsi con persone che non conoscono Dio con persone che credono che Dio non c'è e allora se non c'è una preparazione e in merito a questo ma non soltanto in merito a questo ma una preparazione vasta credo che non sapremmo come chiesa porsi anche davanti alla società per cui è importante perché lo studio della teologia non è uno studio soltanto formativo per la conoscenza della dottrina cristiana ma è anche uno studio che ti prepara ad avere confronti a confrontarti con chiunque anche con le altre denominazioni cristiane anche con i cattolici con gli ortodossi con gli anglicani eccetera perché poi studiando la storia della chiesa capisci determinate cose che se non la studi non capisci per esempio faccio un esempio molto interessante molti evangelici sono convinti che Dio si è mosso nella storia della chiesa soltanto nella chiesa primitiva poi tutto il medievo fino alla Zusa Street c'è un vuoto dove Dio non si è mosso e improvvisamente col rifeglio pentecostale Dio si è da capo mosso e quindi in tutto questo periodo sembra che nessuno sia stato salvato ma non è così se non studi realmente la storia della chiesa non vedi vari movimenti di rifeglio che Dio ha creato nelle varie denominazioni quindi è molto importante avere una preparazione in questo e soprattutto farla con una rivelazione della grazia di Dio dove la conoscenza non ti deve fare gonfiare perché altrimenti diventi pure un fariseo cioè c'è questo rischio e allora se non hai questa base di grazia e misericordia nel tuo cuore poi questa conoscenza ti porta ad inorgoglirti a dirti a dire a te stesso io ne so di più degli altri quindi ti poni anche male nei confronti degli altri però se ci manteniamo umili questo diventa uno strumento realmente ricco dove Dio può metterci a confronto con tante persone è chiaro quindi questo vorrei spronarvi ma anche per chi non ha un ministerio è molto importante perché conoscere la parola di Dio al di là di tutto è vitale quindi è aperta a tutti vorrei incoraggiarvi in questo fatto di frequentarla e di non preoccuparvi se qualche volta ci sono degli intoppi perché anche credo che gli intoppi ci saranno sempre perché il meccanismo online purtroppo è un meccanismo che è sempre labile ok però non quando si incomincia un percorso io ho una una legge nella mia vita non anche se sono difficoltà bisogna portarla al termine anche io ho fatto così con la mia materia musicale ho avuto molte difficoltà volevo abbandonare perché la la tentazione c'era cioè arrivata al nono anno di pianoforte volevo lasciare tutto perché mi ero scoraggiato perché ho avuto tendiniti vari blocchi e arrivato a un certo punto ho avuto bisogno dell'incoraggiamento di altri per non mollare in quel caso ho avuto l'incoraggiamento di mia moglie e non ho mollato va bene però ecco quando ci sono le difficoltà bisogna stringerci insieme e andare avanti insieme quindi vorrei incoraggiarvi a fare questo percorso e iscrivetevi io dico tutti quanti sarebbe la cosa migliore però so benissimo che non sarà così però vorrei incoraggiare soprattutto i giovani perché sapete una cosa io capisco bene che quando Dio ti chiama poi a compiere qualcosa per lui o un ministero o una chiamata che non è ministeriale qualsiasi servizio poi non c'è più tempo per prepararti bene cioè il tempo è così poco perché stai servendo che lo devi proprio scippare scippare palermitano sì vabbè ok lo devi proprio vabbè è un afferrare con violenza strappa no ma è proprio afferrare con violenza questa proprio ok infatti gli scippi sono quando praticamente passi il ladro e ti ruba la borsa quindi è proprio uno strappare con violenza perché poi non ce l'hai più quindi vorrei incoraggiarvi a farlo proprio in un momento dove invece potete avere più tempo per meditare per approfondire ok Dio vi benedica e e niente ora mi resta che mi resta da fare devo predicare e allora vorrei aprire con un versetto che è in Isaia 25 verso 6 quando è arrivato mi hai fatto un segnale è arrivato ok è arrivato ok perfetto e allora il signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un convito di cibi succulenti un convito di vini vecchi di cibi pieni di midollo di vini vecchi raffinati distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni annienterà per sempre la morte il signore di asciugherà le lacrime da ogni viso toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo perché il signore ha parlato beh questa è una profezia chiaramente degli ultimi tempi che riguarda esattamente il periodo del ritorno di Cristo su questa terra del governo millenniale ma soprattutto di quello che sarà la visione anche dei nuovi cieli e nuova terra dove realmente ci sarà una festa continua ma quello che è meraviglioso vedere stamattina che l'obiettivo comunque della festa che Dio ha preparato per noi che non è soltanto una festa finale ma fondamentalmente la festa incomincia per Dio il momento che noi ci arrendiamo a Lui tant'è vero che c'è scritto nella Bibbia che c'è festa in cielo quando un peccatore si ravvede e quindi io credo che ogni giorno Dio fa festa perché ogni giorno grazie a Dio c'è un peccatore nel mondo che si ravvede tanti ogni giorno muoiono senza conoscere Dio ma tanti ogni giorno risorgono arrendendo la loro vita a Dio e questa è una realtà e c'è una festa che è molto particolare perché questa festa riguarda la gioia del Padre ad accogliere ognuno di noi ad accogliere ogni persona dentro la sua famiglia Dio è un Dio d'amore e le sue braccia sono sempre aperte a raccogliere ad accogliere ognuno di noi e la Chiesa io ho detto una volta a Palermo questa missione fondamentalmente che è un prolungamento della festa di Dio la Chiesa è chiamata a raccogliere e ad accogliere cioè raccogliere perché noi andiamo nel mondo a predicare ma poi dobbiamo essere pronti ad accogliere come il Padre ha accolto il prodigo con le braccia aperte a fare festa per ogni persona che arriva nella nostra comunità e questo è una cosa molto bella è una cosa molto particolare la festa per gli ebrei era qualcosa che durava molti 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 giorni non era una festa soltanto di un giorno e si facevano danze e si facevano canti succedeva il vitello ingrassato cosa che per ora io non posso mangiare per i golosi era qualcosa di molto bello perché c'erano voi immaginate un banchetto con tanti 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 piatti succulenti che bontà e si mangiava dall'inizio alla fine c'erano tutti i vini migliori potevi scegliere qualunque vino tanto aveva pagato già il padrone era tutto pagato era tutto offerto non dovevi pagare nulla era una festa che era gratuita per te perché praticamente Dio la stava celebrando in onore del tuo arrivo e tu puoi dire proprio in onore mio in onore di me che praticamente sono la persona più schifosa di questo mondo se tu ti senti degno di essere nella festa perché praticamente sei un servo di Dio sappi che non è questo che ti ha reso degno perché questo era l'atteggiamento che aveva l'altro fratello lui diceva papà ma perché hai fatto questa festa per questo nostro fratello per questo mio fratello che ha dissipato tutti i tuoi beni e io che ti ho servito qua per tanto tempo per me non hai mai ammazzato neanche un vitello manco quello ingrassato manco uno manco quello magro e comprendete che questo atteggiamento è un atteggiamento farisaico e oggi poi verso la fine vorrei parlare proprio di questo ma andiamo per ordine perché altrimenti predicherò un'ora e mezza stamattina se non mi accendo un po' il turbo perché gli argomenti sono un poco tanti credo che noi possiamo dire che il percorso della vita cristiana è un percorso di festa perché la prima cosa che succede quando Cristo entra nei nostri cuori è che questa gioia che Dio ha nel cielo viene trafferita immediatamente nel mio cuore quando io mi arrendo a Dio io sento una gioia esplosiva dentro di me qualcosa che cambia anche per un secondo quando tu ti arrendi a Dio e dici Signore io mi arrendo davanti a Te arrendo la mia vita a Te e voglio dichiarare Te come mio Signore qualcosa nel nostro cuore succede un'emozione particolare accade che può durare per alcune ore per alcuni giorni per alcuni quattro secondi ma qualcosa c'è un segno tangibile che quella festa che c'è nel cielo scende nei nostri cuori c'è esiste ed è reale perché la prima cosa che avviene nel nostro cuore è che il regno di Dio viene trafferito dentro di noi e il regno di Dio è gioia pace e giustizia e sono tre elementi che sono molto particolari perché la giustizia di Dio viene trafferita dentro di te infatti giustificati per fede noi abbiamo pace presso Dio e questo è qualcosa di meraviglioso perché perché il senso della giustificazione che Dio mi dà mi fa sentire pienamente accettato da Lui perché la prima cosa che avviene quando noi nasciamo di nuovo è che per l'opera redentrice di Cristo Gesù Cristo mi ha giustificato pienamente davanti al Padre e il Padre quando io cedo alla sua presenza non vede più i miei fallimenti del passato non vede neanche quelli del presente e non vedrà neanche quelli del futuro perché la giustificazione è una realtà che copre i peccati del passato del presente e del futuro e questo ci deve rallegrare ed ecco perché questa pace al di là di tutto anche quando pecco in realtà non se ne va il problema è che non l'avvertiamo noi per i sensi di colpa ma è sempre dentro di noi invece e quando noi pecchiamo la dobbiamo riscoprire perché il diavolo la prima cosa che farà è quello di privarti di questo senso della gioia del regno perché ti mette il senso di colpa l'accusa ti incomincerà a dire il signore non ti potrà accettare ti incomincerà a dichiarare che Dio è arrabbiato con te e tu magari ci credi ma sappi una cosa che la giustificazione non ti potrà mai separare dall'amore di Dio e nessun peccato più ti potrà separare dal regno di Dio questo non significa che dobbiamo continuare a peccare però perché non è questo quello che Dio vuole però è una realtà che nella vita dei credenti dobbiamo comprenderla perché altrimenti se non la comprendiamo attraverso il senso di colpa il diavolo ci rimetterà da capo la schiavitù del peccato e non riusciremo non riusciremo ad uscirne perché il senso di colpa ti farà sempre più peccare ma quando scopri la grazia di Dio invece ti porterà a non peccare ti porterà a sottomettere le aree della tua carne davanti alla presenza di Dio Amen vogliamo ringraziare Dio stamattina per quello che Lui ha fatto per noi perché è qualcosa di meraviglioso è qualcosa di reale e ci sono quattro punti del modo di comprendere il senso della festa che oggi vi vorrei parlare il primo punto è che visto che la festa è legata all'esperienza della salvezza parleremo proprio di questo la salvezza è sperimentale a livello soggettivo è qualcosa che noi sentiamo è qualcosa che lo sperimentiamo personalmente e Dio non fa una festa collettiva Dio organizza una festa per ognuno di noi e questa è la cosa meravigliosa Dio non vuole risparmiare non dice se oggi praticamente si sono convertite 100 persone organizzerò una festa per tutti e 100 ma organizzerà contemporaneamente 100 feste per ognuno di noi questa è la meravigliosa realtà dell'amore di Dio e poi non so perché nel cielo come farà se la vedrà lui ma di sicuro ci saranno 100 orchestre 100 gruppi di ballerina ma tanto abbonderemo di tutto e realmente noi troviamo già nel Vangelo questa grande realtà quando Gesù fece il suo primo miracolo ha deciso di farlo in un posto particolare le nozze la festa questo perché per due motivi uno riguarda proprio il fattore personale in quel momento c'era un bisogno e il bisogno non era degli invitati che dovevano continuare a bere il vino il bisogno era soggettivo di quei poveri sposi che praticamente avrebbero fatto una brutta figura perché era finito il vino proprio nel centro della festa e questo ti fa capire che Dio vuole incontrarti personalmente e vuole abbracciare te in ogni tuo bisogno e la rivelazione di questo miracolo che Gesù fece è che la grazia di Dio non sono stati soltanto benefattori gli esposi ma poi alla fine tutti gli invitati ed è questa una cosa meravigliosa Dio vuole darti risposte ai tuoi problemi affinché tu possa poi un giorno aiutare anche altri e oggi Dio sta accogliendo te a braccia aperte ma domani sarai tu ad accogliere altri a braccia aperte per Dio ed è questa quello che è la realtà del messaggio del Vangelo io credo che dobbiamo abituarci a vederci un poco tutti come figli e padri figli che abbiamo bisogno dell'abbraccio di Dio ma poi Dio vuole che noi diventiamo anche padri che sappiamo abbracciare altri nel corpo di Cristo e se non sperimentiamo e gustiamo realmente l'abbraccio di Dio nella nostra vita e il fatto che Dio è interessato a noi non riusciremo mai ad abbracciare altri perché la grazia di Dio va gustata infatti nella Bibbia è scritto gustate e vedete quanto è buono il Signore è qualcosa che non va soltanto imparato io posso conoscere tanti e fare tanti studi sulla bontà di Dio sulla sua grazia sulla sua misericordia ma alla fine non realizzare tutto questo alla fine non uscire mai dai problemi ma fondamentalmente quando noi invece gustiamo questo abbraccio nella nostra vita quando ci sentiamo sempre perdonati dal Padre anche quando facciamo le cavolate minime a quelle più grandi realmente noi sperimentiamo la vittoria che c'è nella croce perché la vittoria che c'è nella croce è stato l'amore di Dio che è stato sparso per ognuno di noi e questo amore è eterno e l'abbraccio di Dio è un abbraccio eterno e questo fu una cosa che compresero tanti padri della Chiesa io vorrei citare soltanto un passo che avete anche nel libro che state adottando dove il grande predicatore del passato Jonathan Edwards disse questo in base a quello che sto dicendo e disse vi è una differenza fra il credere che Dio è santo e misericordioso e l'avere una nuova intima percezione dell'amabilità ed è la bellezza di quella santità e misericordia la differenza tra il credere che Dio è misericordioso e il toccare con la mano la sua misericordia è paragonabile a quella che esiste tra il credere razionalmente che il miele è dolce e l'avere l'esperienza diretta della sua dolcezza fino a che tu senti soltanto parlare dell'amore di Dio e ci sono tante persone che evangeliche perché comunque gli evangelici e i protestanti in genere sono nati con la rivelazione della grazia ma ci sono tante persone che questa rivelazione l'hanno soltanto nella mente non l'hanno mai gustata e quindi magari ci saranno persone che predicano sull'amore e sulla grazia ma appena devono dimostrare amore misericordia e grazia non ci riescono perché tu riesci a dimostrare agli altri ciò che nell'intimità con Dio è ricevuto da Dio se nell'intimità con Dio tu non hai ancora ricevuto l'amore di Dio non perché Dio non te lo vuole dare ma perché non lo senti e non lo puoi sentire per vari motivi perché non ti senti accettato perché non ti senti amato perché ancora le tue ferite gridano di più della voce di Dio che ti ama ci sono tante ragioni un'altra ragione può essere l'orgoglio anche perché non ti vuoi piegare alla volontà di Dio per cui praticamente vuoi essere amato da Dio per come tu sei e Dio ti ama per come tu sei appena Dio ti dice di cambiare come molti figli dicono ai genitori non mi vuoi più bene è così e allora dobbiamo realmente fratelli cari gustare l'amore di Dio perché alla fine quando noi siamo nella difficoltà quando siamo presi dai sensi di colpa quando siamo presi da tutte posso dire i lacci che il diavolo con cui il diavolo ci vuole legare non ti servirà praticamente lo studio biblico e lo dice un insegnante ti servirà la rivelazione che tu hai avuto di quell'insegnamento davanti alla presenza di Dio amén perché fino a che la teologia rimane un'esperienza razionale sarà un'arma che noi utilizziamo per avere davanti agli uomini capacità oratorie ma quando questa parola di Dio e lo studio della teologia incomincia a essere qualcosa che davanti alla presenza di Dio incomincia a gustarlo perché incomincia a vedere che realmente ciò che tu hai letto di Dio è così personalmente per te e allora lì ci sarà un cambiamento radicale amén siete con me andiamo al secondo punto la salvezza deve essere resa visibile la festa non era una festa segreta tant'è vero che il figlio quando tornò dai campi si accorse che c'era festa dal rumore della musica della danza non era una festa in silenzio organizziamo la festa per il figlio che è tornato però si dice in palermitana a mucciune cioè praticamente nascosti nascosti tutti in silenzio senza che nessuno lo vede perché se il figlio maggiore lo sa apriti cielo cosa può succedere e certe volte noi siamo così no quando ci convertiamo no 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 non parliamo del Vangelo a quelli della mia famiglia perché altrimenti verrò perseguitato sì però lo capisco e ci sono anche questi casi però se noi non predichiamo agli altri ci nascondiamo allora la Chiesa come farà ad essere luce di questo mondo amén sapete una cosa il piano di Dio non si è affermato soltanto al fatto che tu beneficiavi di questa salvezza non si è affermato al fatto che solamente tu devi essere l'invitato della festa finale delle nozze dell'agnello ma il piano di Dio riguarda tutta l'umanità intera ma non soltanto tutta l'umanità intera ma si parla anche di una salvezza della creazione perché tutta la creazione è stata corrotta dal peccato di Adamo e Dio non ha soltanto un piano di redenzione per l'essere umano ma ha un piano di redenzione anche per questa terra infatti i nuovi cieli e nuova terra appartengono al piano finale della redenzione di Dio dove tutto quell'equilibrio che c'era prima della caduta verrà pienamente ristabilito dove non ci sarà più pianto dove non ci sarà più morte dove non ci saranno più malattie dove non ci saranno più guerre dove non ci sarà più cattiveria perché questo? perché non solo il peccato è stato vinto da noi ma perché Satana è stato sconfitto pienamente e realmente perché anche se lui è stato sconfitto sulla croce comunque ancora sta regnando ma la vera sconfitta totale avverrà quando nel ritorno di Cristo lui verrà gettato definitivamente nello stagno di fuoco e di zolfo e là sarà il suo posto con tutti quelli che l'hanno voluto seguire amén e questo traformerà e farà ritornare esattamente tutto come era prima e vorrei leggere un passo in Romani 8 19-22 dove dice la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà cioè voi pensate cosa è successo al momento che Adam ha peccato tutto quello che Dio aveva creato che era perfetto che era buono che era molto buono ha perso questa perfezione tutto quello che Dio aveva creato che era eterno ha perso la visione dell'eternità si dice che addirittura prima della caduta dell'uomo non c'era neanche tra gli animali questo fatto di mangiarsi l'un con l'altro c'era praticamente armonia in tutto tant'è vero che poi le visioni dell'apocalisse e anche della nuova terra cosa dice che l'agnello abiterà con il leone cioè quindi al leone non gli verrà la voglia di mangiare l'agnello perché sembra che quasi tutti si mangiavano tutti i frutti della terra e tutte le erbe e realmente alcuni medici dicono che l'uomo era stato progettato più che altro per essere erbivero più che carnivoro cioè era onnivoro però praticamente era progettato proprio per alimentarsi di più con i frutti della terra però faccio una parentesi non pensate che sono a favore praticamente della filosofia vegana o di queste cose perché non lo sono anche perché poi Dio dopo il peccato ha detto che si possono mangiare carne e tutte queste cose altrimenti ritorniamo agli ebrei che non mangiavano determinati cibi io mangio di tutto sono goloso sono una buona forchetta quindi poi quando quando risorgerò praticamente non potrò mangiare gli animali perché non si potranno uccidere mi accontenterò delle erbe va bene però credo che poi mi accontenterò c'è qualcosa che cambierà anche dentro di me però vedete il creato non è caduto per sua volontà tutta questa creazione è caduta più troppo per colpa nostra per colpa nostra ed è stata sottoposta come dice qua la vanità non di sopravviveno ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta quindi l'uomo nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio ma guardate come è aperto l'apostolo Paolo questo passo poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio è come se tutto il creato grida colui che l'ha fatto cadere ora rialzami e siccome Dio ha rialzato l'uomo che ha fatto cadere la creazione oggi Dio sta dicendo e continuando a dire alla sua chiesa c'è una creazione che geme ed è in travaglio che aspetta la manifestazione della sua chiesa per poterla noi riscattare in fondo siamo stati noi colpevoli e Dio ci sta dando un modo per poter riscattare tutto ciò che avevamo fatto è in quest'ottica che la dobbiamo vedere e non incomincia soltanto per ora Dio non ti sta chiamando a riscattare gli animali e le piante ma ti sta chiamando a riscattare intanto altri uomini a portare il messaggio della redenzione ad altri a far entrare altri in questa festa gloriosa che Dio ha preparato e quello che vorrei dire è anche il modo come Dio vuole che non è soltanto attraverso opere evangelistiche e non guardatemi male perché so che voi siete una chiesa molto che vi date all'opera evangelistica ma non sto parlando di quello che voi fate perché quello che voi fate mi piace molto sto parlando della classica evangelizzazione dove praticamente molte volte le chiese sono uscite pensando di predicare alle folle e molte volte questo funziona altre volte no molte volte devi incontrare proprio le persone personalmente per parlare di Dio e ci sono modi e modi come lo puoi fare ci sono anche modi attraverso opere sociali attraverso una chiesa presente nella società laddove c'è povertà e allora incominci attraverso il banco alimentare anche a distribuire cibi e quello può diventare un modo come tu puoi portare la parola di Dio credo che dobbiamo imparare che le opere sono testimonianza della fede che noi abbiamo creduto perché molte volte per essere reazioni reazionari ai cattolici ci siamo dimenticati di un'altra parte del Vangelo perché noi siamo un po' paolini e meno giacomini però Giacomo non stava predicando un Vangelo diverso da Paolo stava facendo vedere l'altra faccia della medaglia Paolo diceva giustificati per fede ok Giacomo diceva però se hai capito la giustificazione devi fare anche le buone opere perché chi le può fare le buone opere se non coloro che sono stati giustificati in Cristo amén e infatti poi Paolo lo riprese in Tito e dice nell'epistola che è scritto a Tito parla prima della salvezza per grazia e per fede e poi dice altresì coloro che sono stati salvati per fede non si astengano a compiere buone opere amén quindi stavano parlando della stessa cosa però molte volte noi per essere reazionari un po' anticattolici magari siamo quelli che diciamo soltanto predichiamo la fede ma non le opere e allora sapete una cosa quando Giacomo dice che noi saremo salvati per opere non sta dicendo che dobbiamo fare opere per essere salvati ma sta dicendo che le opere testimoniano della nostra salvezza amén e allora noi se dobbiamo essere testimoni dell'amore di Dio e della grazia di Dio dobbiamo fare opere tant'è vero che il padre la prima cosa che ha fatto quando il figlio è ritornato è stata un'opera la festa era un'opera amén un'opera dell'amore di Dio una grande opera la redenzione in Cristo Gesù il sacrificio di Cristo è stata una grandissima opera lui ha donato qualcosa e questa è un'opera e Dio ti chiama oggi a donare il tuo tempo ti chiama a donare il tuo tempo e spendere il tuo tempo per gli altri perché la grazia e l'amore di Dio deve essere manifestata attraverso i suoi figli in questa terra e in questa società o comunque a furia di predicare mi sento meglio predicherò un altro poco così mi sento meglio terzo punto la salvezza è un fattore di crescita individuale ripeto un fattore di crescita individuale non finisce al momento che noi ci rendiamo a Dio non finisce nel momento in cui il padre ci accoglie a braccia aperta e fa festa inizia infatti nella teologia c'è una parte della dottrina della salvezza dove dice che la salvezza incomincia nello spirito poi si parla di salvezza delle anime nostre perché la nostra anima deve essere guarita poi si parla di salvezza della nostra mente ossia di rinnovamento della nostra mente poi si parla della salvezza delle nazioni poi si parla praticamente di altri tipi di salvezza delle famiglie eccetera eccetera quindi la salvezza è qualcosa che incomincia da un piccolo fuoco che si accende nel nostro cuore che poi si espande tant'è vero che Dio chiamò Abramo da Ur dei Caldei salvò lui e poi cosa gli ha detto e in te saranno benedette tutte le famiglie di questa terra amè? è così che funziona ma per io permettere che quello che è stato il seme della nuova nascita e quindi che Dio ha incominciato nel mio spirito possa essere irradiato in tutta la mia triplice natura quindi spirito anima e corpo e poi fuori da me devo crescere devo crescere nella nella conoscenza dell'opera della salvezza che non è soltanto il momento di arresa ma quello è il momento in cui noi arrendiamo noi stessi davanti a Dio perché comprendiamo che il Signore non è venuto a salvarmi dai peccati ma è venuto a salvarmi dal peccato dalla natura di peccato perché il Signore non ti ha come molti fanno avuto la presunzione di togliere i rami ma ha voluto togliere la radice perché se non toglie la radice i rami rimarranno belli vivi e vegeti però come spesso succede quando tu togli la radice quindi quest'opera che Dio ha fatto che ha illuminato il nostro cuore non sempre questo porta un risultato immediato nella nostra vita non sempre i credenti riescono ad abbandonare subito le proprie cattive abitudini i propri stili sbagliati perché questo perché come ho capito anche nel campo medico quando mia figlia è stata operata il dottore disse una cosa dice non vi preoccupate se dopo l'intervento avrà qualche crisi perché è normale perché comunque il cervello per un po' di tempo penserà che quella parte che gli è stata tolta ci sia ancora la stessa cosa è per noi anche quando praticamente Dio ha tolto la natura di peccato ancora il nostro cervello ha i file corrotti di quella natura e quindi dobbiamo dare tempo esponendoci sia alla presenza di Dio che alla parola di Dio di rinnovare la nostra mente ma a cosa ti devi esporre ed è qua la bella domanda devi esporti praticamente alla rivelazione dell'amore e della grazia di Dio perché puoi avere due esposizioni la legge o la grazia se tu ti esponi alla legge vorrai ottenere una santificazione attraverso gli esforzi umani ed è quello che ha fatto il fratello del prodigo lui era lì a dire al padre io ho fatto io ho fatto io ho fatto io ho fatto ma non aveva prodotto niente tutto quello che aveva fatto alla fine quando il padre lo invitava alla festa lui si ribellava e non voleva entrare quindi cosa era cambiato niente aveva fatto aveva fatto aveva fatto aveva l'abito più bianco di quello del fratello sicuramente ma il suo cuore era più nero di quello del fratello e molti credenti sono così ma il problema non è ciò che hai fatto tu ti devi basare su ciò che ha fatto Dio per te ed è quello che ti farà ottenere realmente la santità di Dio infatti la religione dice io faccio la sua volontà per questo Dio mi accetta ma la rivelazione dell'Evangelio e della grazia di Dio dice Dio mi accetta grazie all'opera di Gesù Cristo per questo motivo io faccio la sua volontà amen e sapete qua è molto pericoloso del fatto perché pur noi avendo iniziato un cammino per grazia e avendo sperimentato al momento della nuova nascita questa grazia che Dio ci ha fatto perché siamo stati realmente graziati come i padri protestanti dicono cioè l'ira di Dio doveva consumarci invece Dio ci ha rifermiato e realmente se non afferriamo questa rivelazione nella nostra vita rischiamo che incominciamo un cammino per grazia ma poi piano piano lo continuiamo per legge mentre dobbiamo iniziare un cammino per grazia e continuare ad addentrarci ancora di più nella grazia di Dio perché l'amore di Dio è qualcosa di eterno e voglio dirvi qualcosa di molto importante l'apostolo Paolo era convinto di quello che sto dicendo perché lui scrisse in seconda Corinzi capitolo 8 verso 9 infatti voi conoscete la grazia del Signore Gesù Cristo il quale essendo ricco si è fatto povero per voi affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi ora c'è un motivo preciso perché Paolo scrisse questo era un motivo molto forte in poche parole lui doveva raccogliere una colletta per alcune chiese che erano povere e l'apostolo non fece leva sulla sua posizione da autorità dicendo io sono l'apostolo Paolo e vi ordino di poteva farlo poteva dirlo e molte volte nelle chiese noi esercitiamo autorità in questa maniera e vorrei in questo esortare tutti coloro che hanno una responsabilità a scoprire la grazia di Dio nell'esercitare questa responsabilità perché noi non dobbiamo imporre nulla dobbiamo fare scoprire la grazia di Dio perché alla fine la grazia quando viene scoperta automaticamente ti costringe come dice l'apostolo Paolo cioè ti spinge sarebbe esattamente il verbo greco più corretto cioè il verbo italiano più corretto da dare il senso a questo verbo greco c'è una spinta forte ok che quasi quasi l'avete presente quando praticamente i bambini sono belli piantati che non si vogliono muovere il genitore dai cammini ok questa è la grazia di Dio c'è molte volte siccome io non vedi i pericoli uno cosa direbbe dal punto di vista umano stai là no invece Dio perché a noi genitori ci viene non vuoi camminare stai là e lo lasciamo invece Dio non fa così con noi arrivato a un certo punto se non vogliamo camminare ci incomincia a spingere ma questo lo fa quando almeno un minimo d'apertura noi glielo diamo perché poi Dio non violenta nessuno chiaramente allora quello che dobbiamo capire è che l'Apostolo Paolo invece come ottiene che le chiese potevano donare in quel momento proprio facendo leva sulla grazia di Dio lui incomincia a dire infatti voi conoscete la grazia del Signore Gesù Cristo il quale essendo ricco si è fatto povero per noi affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi questo è proprio un esempio come possiamo motivare le persone non ha detto c'è questo bisogno donate eccetera perché io ve lo ordino perché non ha fatto leva su sentimenti umani non ha fatto leva su imposizioni ha fatto leva sulla grazia di Dio se avete scoperto la grazia di Dio voi sapete che Dio non vi farà mancare niente se avete scoperto la grazia di Dio la grazia di Dio ti fa avere un cuore misericordioso che batte per i bisogni degli altri se avete scoperto la grazia di Dio non puoi essere insensibile al bisogno del fratello che è accanto a te se avete scoperto la grazia di Dio non possiamo essere insensibili al dolore che Dio Padre prova per il mondo se abbiamo scoperto la grazia di Dio non possiamo ragionare egoisticamente perché l'amore di Dio è un amore che si dona agli altri era questo che l'Apostolo Paolo stava dicendo era questo che l'Apostolo Paolo stava sottolineando in quel momento e vorrei dirvi proprio questo fratelli che molti purtroppo ed è questa la cosa brutta che vedo molte volte nelle chiese ubbidiscono più agli stimoli di paura che non allo stimolo dell'amore ubbidiamo certe volte di più se vediamo un ministerio che ci domina che non quando abbiamo un ministerio che invece scoprendo la grazia non che ci lascia liberi ma che ci dice chiaramente le cose come stanno molti riescono ad avere più risultati ma sono tutti risultati esteriori poi alla fine predicando il timore e l'ira di Dio che non predicando l'amore di Dio perché? perché tendenzialmente ancora siamo fatti male vogliamo essere controllati pensiamo ancora di essere schiavi ma noi siamo stati liberati ed ecco perché vuole Dio condurci alla santità mediante la rivelazione della grazia alla fine non saranno i tuoi forzi che ti santificheranno l'Apostolo Paolo infatti ha scritto la grazia ti santificherà la grazia ti santifica non ha detto che ti devi santificare tu e questa rivelazione c'era anche nell'Antico Testamento quando Dio si è rivelato io sono l'Eterno che ti santifico non ha chiesto a te di santificarti perché per te è impossibile e anche mediante la legge se Dio lo chiedeva era per farci capire che la legge poteva essere soltanto da precettore come dice l'Apostolo cioè ci fa capire come Dio ci vorrebbe ma non ci dà la soluzione di come possiamo arrivare a quello ma la grazia sì che te la dà perché Dio ha detto come io ho incominciato un'opera nel tuo spirito perché tu ti sei arresa a me e così io continuerò a fare nella tua anima e nella tua mente se tu ti arrendi a me ma è qualcosa che fa lui in risposta alla tua arresa amèn poi quando lui ti illumina e ti mostra quello che devi cambiare cosa dice l'Apostolo Paolo allora deponete tutte le opere della carne allora io la devo deporre ma deporrò volentieri qualcosa di cui ho avuto rivelazione depongo volentieri qualcosa di cui ho avuto rivelazione grazie al suggeritore e questo è qualcosa di meraviglioso perché alla fine mi farà sempre sentire accettato Dio rispetta i miei tempi Dio non vuole non pretende che noi cambiamo subito anzi ti dico una cosa andrai pure in cielo con un'aria della tua vita che non sono state rinnovate sappilo è normale non pretendere di essere santo su questa terra perché altrimenti ti facciamo santo subito ci saranno arie che tu non riuscirai a conquistare perché la perfezione totale comunque noi l'avremo quando Cristo ritornerà e quando saremo con un corpo incorruttibile perché fino a che saremo con questo corpo carnale comunque avremo arie che non riusciremo ad arrendere totalmente un pezzettino di carne emergerà sempre non saremo mai capaci fino a che stiamo su questo corpo di amare noi stessi gli altri e Dio al 100% in maniera costante per tutta la nostra vita però però se tu ti esponi alla grazia di Dio alla fine questa meravigliosa luce riuscirà a prevalere per molto tempo e quando tu cadi comunque andrai sempre a Dio col cuore in mano a dire Signore ho peccato davanti a te perdonami amén e questa è una grande vittoria è una grande vittoria perché se non capisci questo non riuscirai a realizzare il cammino cristiano e vorrei parlare un attimo di qualcosa spero di andare in un quarto d'ora a chiudere tutto sapete una cosa è molto importante che comprendiamo questo per apprezzare di più la grazia e per apprezzare questa festa che Dio vuole fare e continua a fare ogni giorno per noi perché ogni giorno Dio ha una festa per noi ogni giorno Dio come abbiamo letto in quel versetto di Osea che ha letto non mi ricordo il capitolo comunque era il profeta Osea quando tu hai letto di Dio che danza per noi eccetera ogni giorno Dio quando guarda noi loda danza si rallegra e giubila per Dio è sempre festa quando guarda i suoi figli ma dobbiamo capire una cosa per apprezzare questo perché la grazia ti spingerà verso gli altri verso la tua santificazione ti spingerà ad abbracciare anche il tuo nemico perché se non comprendiamo quello che Dio ha fatto non riusciremo a comprendere questa grande rivelazione fratelli cari non vi spaventate ora per cinque minuti vi devo proiettare un'immagine proprio per far apprezzare la grazia di Dio quando l'uomo era caduto la giustizia di Dio aveva chiesto esattamente la distruzione dell'uomo come del resto Dio l'ha manifestato alcune volte non durante la legge ma prima della legge quando ha distrutto la terra mediante il diluvio quando il peccato arriva a un certo livello il cuore di Dio viene così ferito che praticamente la sua ira si manifesta che non è rabbia perché per noi l'ira è rabbia ma è un dolore un dolore che praticamente si esprime attraverso quella frase distruggerò tutto perché non posso più sopportare quello che avviene e questo è quel dolore anche che ha avuto Gesù quando entrò nel tempio che incontrò praticamente i venditori lì è scritto che Gesù fu preso d'ira e ha battuto tutti fuori ma non era l'ira dell'opera della carne capite era sempre questa ferita che Dio aveva quando noi pecchiamo e quando Dio vede il male dell'uomo c'è uno strappo nel cuore di Dio però sapete non c'era soltanto la giustizia di Dio che reclamava questo perché la giustizia di Dio reclamava un sacrificio che questo sacrificio doveva essere espiativo quindi o doveva distruggere l'uomo o qualcuno doveva pagare arrivato a un certo punto la grazia di Dio è intervenuta e ha proprio coperto tutti gli attributi di Dio ecco perché Dio è amore ed è grazia e alla fine ha detto no non distruggerò l'uomo e il padre e il figlio si trovarono a colloquio e incominciarono a pensare cosa potevano fare e il figlio disse al padre papà non ti preoccupare scenderò io su questa terra e sarò io a pagare a posto loro vedete Dio ha donato il meglio che aveva pensa che io da padre non l'avrei mandata mia figlia a morire per nessuno di voi per nessuno di voi tu avresti mandato tuo figlio a morire per il tuo nemico tali eravamo noi per Dio tali ma manco per i tuoi amici figurati per il tuo nemico tali eravamo noi eppure però siamo toccati quando vediamo nella realtà anche della storia dei film di qualcuno che si sacrifica che sacrifica la propria vita per gli altri rimaniamo toccati ma io credo che molto di più ci debba toccare questa realtà quello che Dio ha fatto per noi e se tu comprendi questa automaticamente scatta in te una molla signore tu mi hai risparmiato realmente comprendiamo quello che è scritto che è una grazia dell'eterno che non siamo stati interamente distrutti poiché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina grande è la sua fedeltà e questa rivelazione è poi arrivata a un certo punto dove mi spinge a donarmi a donarmi a lui interamente signore io che non ero degno tu mi hai fatto diventare membro di questa famiglia della tua casa e hai preparato una festa per me per raccogliermi hai preparato tutti questi cibi succulenti per me grazie signore la minima cosa che io posso fare quando scopro questo è dire signore allora io voglio essere uno strumento nelle tue mani fai di me tutto quello che vuoi e questo ti spinge ecco perché molti preferiscono stare nella religione preferiscono dire al signore io ti do quando voglio quando ho tempo quando mi piace quando lo sento invece chi scopre la grazia dona tutto il suo tempo quando no quando vuole sempre non quando lo sente anche quando non lo sente come diceva Paolo anche quando siamo praticamente perseguitati invece cosa facciamo anziché di scappare nasconderci continuiamo continuiamo e non c'è stata la tempesta che ha fermato l'apostolo Paolo non c'è stato naufragio lui sapeva che doveva andare a Roma e anche si aggrappò a una trave e ci andò e ci arrivò amen e questa rivelazione Paolo la scrisse e disse infatti io posso ogni cosa in colui che mi fortifica io posso ogni cosa in colui che mi fortifica ed è una grande rivelazione perché a quel punto comprendiamo che la grazia di Dio che è stata rivelata nei nostri cuori non i miei forzi umani ci possono fare dei passi e possiamo fare ogni cosa in colui che ci fortifica attraverso la rivelazione del suo amore amen perché io mi sento grandemente amato da lui prima di passare all'ultimo punto che è piccolo vorrei proprio con voi così cambiate posizione vi chiedo di alzarvi e intonare proprio questo canto che è antico che dice proprio posso ogni cosa in colui che mi fortifica e realmente dobbiamo in questo momento comprendere quello che Dio vuole fare nella nostra vita perché se non comprendiamo la grazia non possiamo né santificarci né abbracciare colui che deve essere abbracciato né amare gli altri ok cantiamo assieme io posso ogni cosa in colui che mi fortifica io posso ogni cosa in colui che mi fortifica io posso sì io posso vivere una vita santa posso amare perdonare e dopo dimenticare posso fare la volontà del mio che è nei cieli e trovare la forza per ogni dì alleluia è proprio vero questo solo attraverso questa rivelazione noi possiamo amare possiamo amare gli altri possiamo trovare la forza di perdonare coloro che ci feriscono e guardate che il figlio prodigo ha ferito tremendamente il cuore del padre perché come vi è stato sicuro spiegato quando lui chiese quell'eredità in poche parole gli ha detto non posso aspettare neanche non ho pazienza neanche di aspettare che tu muori io voglio questo in poche parole è come se gli avessi augurato pure di morire quindi guarda che ferita grande gli aveva fatto però realmente se noi scopriamo la grazia di Dio noi possiamo cantare io posso sì io posso vivere una vita santa posso amare perdonare e dopo dimenticare posso fare la volontà del mio che è nei cieli e trovare la forza per ogni io posso io posso sì io posso amare donare e dopo dimenticare posso fare la volontà del mio che è nei cieli e trovare la forza per ogni Dio alleluia e in questo momento voglio chiederti realmente prima di continuare ad andare sull'ultimo punto che se tu hai davanti in questo momento delle persone che devi perdonare delle persone che ti hanno ferito Dio vuole che noi troviamo la forza di farla attraverso la sua presenza quell'abbraccio che il padre ha dato a te quando sei arrivato nella sua casa vuole che tu sia capace a darlo anche agli altri anche a coloro che ti feriscono e in questo momento voglio chiederti proprio di mettere davanti la persona che ti ha deluso il fratello che ti ha ferito il fratello che ti ha deluso e di metterlo davanti a te e di dire io ti perdono in virtù dell'amore e della grazia di Dio non è detto che dimenticherai subito il torto perché come abbiamo cantato c'è un processo anche nel perdono molte volte riusciamo a dimenticare subito molte volte ci vuole del tempo però Dio è un Dio di riconciliazione e Dio riconcilia e sana i rapporti io posso sì io posso vivere una vita santa posso amare perdonare dopo dimenticare posso fare la volontà del padre mio che è nei cieli e trovare la forza per ogni Dio alleluia vogliamo fare un applauso al Signore grazie per quello che Lui sta facendo e ha fatto amen vogliamo risederci e andiamo velocemente all'ultimo punto perché non potevo farlo se prima non facevamo questo passo perché il quarto punto è la salvezza è un aspetto comunitario quando il figlio il prodigo è tornato tutto il villaggio tutta la famiglia tutta la casa compreso i servi hanno festeggiato ora noi viviamo in una società molto egoista dove il senso della comunità si è perso anche all'interno delle famiglie ormai le famiglie sono diventate degli alberchi dove i figli entrano escono vengono a mangiare quando vogliono mamma è pronta se tu non prepari subito quando dice lui si arrabbia pure ok e se non gli prepari come dice lui si arrabbia pure e siamo diventati molto egoisti e l'aspetto della comunità di quella famiglia giacobbiana che si riuniva nel fuoco attorno al fuoco oggi non ti riunisci davanti al fuoco c'è un fuoco maggiore che si chiama televisione va bene ma questo aspetto va bene allora guardate mi accontento se serve anche che vi vedete un film per stare insieme ma basta che si sta insieme ok cosa intendo dire non è il massimo ma se per stare insieme ci dobbiamo riunire per vederci un film ok può essere un inizio ma Dio vuole che l'aspetto comunitario incominci prima nella famiglia per poi estendersi nella chiesa amen se tu non riesci ad avere comunione all'interno della tua famiglia non potrai provare la gioia della comunione nel corpo di Cristo se sei litigato e se tu hai rapporti anche all'interno della famiglia sono rapporti egoisti dove praticamente ogni ferita è una trave dove ogni problema diventa un problema dove ogni problema diventa un problema è carino realmente non potrai gustare la vita comunitaria perché la vita comunitaria è una famiglia allargata non in quale senso ma una famiglia allargata nel corpo di Cristo dove tutti siamo fratelli e sorelle e dove tutti dobbiamo essere padri e madri sapete perché dico sempre questa cosa perché molte volte noi come credenti vogliamo soltanto essere fratelli e sorelle senza pensare che Dio ci ha dato anche una responsabilità di essere padri e madri quindi vogliamo essere soltanto coccolati vogliamo essere soltanto abbracciati ci piace ricevere quest'amore ma non ci piace darlo perché i figli sono così vogliono essere sempre al centro dell'attenzione vogliono essere coccolati da papà e mamma ma quando poi devi fare il papà ed abbracciare altri ti viene duro ma il problema cari fratelli è questo è l'apertura del culto gustate e vedete quanto è buono il Signore il Signore ci chiama molte volte proprio nella sua presenza per essere abbracciati da Lui e poi ci dice di andare verso la comunità per abbracciare gli altri amén io credo una cosa sapete perché il figlio del fratello maggiore che questa è una cosa importante i fratelli maggiori sono coloro al cui il padre delega la responsabilità paterna nella famiglia ebraica cioè erano i secondi padri il vice padre non è stato capace di adempiere a quella chiamata doveva essere il fratello maggiore doveva essere accanto al padre ogni giorno ad aspettare il ritorno del figlio perché come fratello maggiore era padre anche lui questo nel libro non c'è aveva questa responsabilità perché loro avevano la doppia eredità erano i continuatori del ministerio paterno il dio di abbramo di sacca di giacobbe comprendete ma lui non capì questo non capì l'aspetto comunitario non era lì ad aspettare il ritorno del fratello perché era arrabbiato col fratello non era neanche lì a festeggiare il ritorno del fratello perché non aveva davanti a lui l'offesa che il fratello aveva fatto io credo che nella comunità noi dobbiamo comprendere che le relazioni vanno curate ed è importante questo perché dio vuole che la sua chiesa sia un corpo dove l'amore e la misericordia riesca sempre a fluire ecco perché poco fa ha detto non possiamo passare al quarto punto se prima non passiamo a questo perdono perdonandoci gli uni e gli altri amandoci gli uni e gli altri c'è festa in cielo quando un peccatore si ravvede e quando noi abbiamo l'attitudine del fratello maggiore e ci ravvediamo andiamo a chiedere perdono anche a coloro che ci hanno offesi c'è festa in cielo amén e la festa continua ecco l'aspetto comunitario fratelli cari è molto importante perché il sangue di Cristo ha edificato la chiesa e come la storia della chiesa dice il sangue dei martiri anche ha edificato la chiesa che era un sangue d'amore un sacrificio estremo io non posso permettere che la relazione fra me e un mio fratello duri per tanti anni interrotta sia interrotta per tanti anni che ci sia astio che ci sia rancore e noi dal punto di vista umano molte volte ragioniamo ma è lui che ha avuto torto perché devo andare io a chiedere perdono ma eravamo noi che avevamo avuto torto perché Dio doveva scendere su questa terra chi scopre la grazia di Dio capisce che il perdono non è qualcosa da dare se hai ragione o meno il perdono è qualcosa da dare sempre amén anche davanti alla persona che non è pronta in quel momento a riceverlo anche davanti alla persona che non è pronta a comprenderlo perché prima di tutto quell'atto di perdono e di misericordia libera te e tu sei libero davanti a Dio poi se gli altri non l'accettano quello poi è un problema di chi non l'accetta ma intanto tu sei stato sciolto nella comunità ci possono essere anche fraintendimenti nella comunità non sempre potrei essere capito però una cosa è certa Dio ci chiama non soltanto a vivere un rapporto di comunione con Lui ma ci chiama anche ad essere inseriti a vivere un rapporto con il corpo di Cristo quindi tutti coloro che sono stati feriti da atteggiamenti sbagliati o anche da fratelli maggiori molto legalisti molto ferventi nello zelo della legge molto insensibili a volte coloro che non sono stati capiti all'interno del corpo di Cristo io ti posso dire una cosa perché Dio ha dato la rivelazione della croce Dio non ha detto dovete soltanto essere inseriti in un corpo e non ha detto neanche dovete soltanto avere comunione con me ha detto dovete avere comunione con il Padre e comunione con il corpo perché il corpo da solo non basta e la comunione con il Padre da sola non basta ci vogliono ambedue le cose perché per rimanere nel corpo di Cristo se io ho sempre comunione con Dio ci potrà essere un momento in cui mi girano le scatole e penso lascio la mia chiesa però poi quando io prego davanti a Dio Dio mi metterà sempre quella luce di perdone di misericordia dove io riuscirò a vedere i miei fratelli in una luce diversa fratelli cari quelli che vengono feriti molte volte dicono basta con le chiese io non voglio avere comunione con le chiese voglio avere comunione con Dio perdonatemi se lo dico ve lo dico con tutto il rispetto e con tutto il cuore in mano ma forse non avete neanche comunione con Dio perché se si ha comunione con Dio la prima cosa che Dio ti dice è vatti a riconciliare ma signore ma io ho ragione vatti a riconciliare amen un emblema della festa è la santa cena e cosa dice l'apostolo Paolo in merito alla santa cena che non possiamo accostarci alla cena del signore se non comprendiamo proprio il mistero del corpo perché alcuni non capiscono il corpo molti sono malati e muoiono cosa stava parlando stava parlando proprio delle relazioni del corpo di Cristo e allora dobbiamo comprendere questo aspetto la chiesa non è perfetta cioè la visione che Dio ha è perfetta ma la chiesa è fatta da credenti che ancora camminano nella via della santificazione nella via della perfezione un giorno ti potrò deludere anche io come pastore perché io faccio i miei errori non ho sempre il contatto diretto con il cielo non pensate che un ministro è infallibile perché già c'è stato nella storia della chiesa qualcuno che ha pensato di essere infallibile i danni sono stati tanti i ministri non sono infallibili i ministri sono dei uomini unti da Dio dei ministeri unti da Dio ma fallibili come tutti voi e in questo dobbiamo capire che anche un pastore può sbagliare a volte ma questo non priverà mai te e non deve privare mai te dall'essere in comunione con il corpo di Cristo perché un giorno anche il pastore che ha sbagliato verso di te può venire davanti a te e dire pecora mia ho sbagliato amen perché l'umiltà poi copre tutti i peccati amen io ho finito e ho terminato ma vorrei non so quanto ho predicato praticamente credo che ho superato l'ora perdonami ok vorrei soltanto lasciare ora il microfono al pastore per quello che sente io credo che comunque dobbiamo realmente maturare in questo e fare fluire questo atteggiamento di misericordia e di grazia perché la festa che Dio ha preparato è proprio simbolo della grazia di Dio le nozze dell'agnello non è altro che l'apice del trionfo della grazia di Dio di questa chiesa che Dio verrà a rapire di questa festa che Dio farà per accogliere tutta la sua chiesa Dio vi benedica alziamoci in piedi